Ciao raga, come state? Tutto bene? Allora, ci avete scritto in tantissimi, sotto qualsiasi tipo di video, che sono usciti i nuovi Skifidol Super Fluffy Slime. Ci avete letteralmente sommerso dai commenti? Ma guarda quei commenti, troppi! Bubi! Ma dai, che cosa hai fatto? Cioè, sommersa veramente! Ma che cazzo? Comunque abbiamo ben deciso di prendere, andare in ridicola e saccheggiarla di tutti gli Skifidol Super Slime! Tu hai deciso! BAM! Te pareva, te pareva! Che cosa? Te pareva che saccheggiavi un negozio! Dai, tutti, tutti le hai presi! Tutti! Anche doppi! BAM! Pure! Tutti hai fatto! Tutti! Gli ho detto, dammeli tutti! Non mi ricomendi infatti, non mi sento ancora dopo! No! Però ti hanno colpito talmente tanto, e te li senti ancora in faccia! Ah, ma anche te giocchi! Eh sì che gioco anch'io ormai! Scusami, sono anche miei! Vabbia! Comunque questi sono nuovi, super fluffy slime e sono i profumi estivi dell'estate! Yuuu! E sono tutti fluffosi, morbidosi! Spende lentirino! Sì! Cosa stai facendo Luca? Spende un attimino! Uno! Due! Tre! Raphaib è sparito davvero! Bubbi! 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 Dove sei? mi schia l'orecchio nell'orecchio dai luca i coriandoli anche lei si è spaventato va bene dai apriamo gli slime ho fatto la mia gag dai tutti i coriandoli luca questo mio è rosa mamma senti che profumo questo qua cos'è guardate che bello aspetta lo devo troppo far vedere guarda questo è caramelle questo è super morbido guarda che fico fai toccare no io dai fa toccare ma va ma sono super soft si ma che bello è super elasto oh oh ok coriandoli coriandoli dai katia sto facendo un casino con i miei skifidol sei tu che hai sparso tutti i coriandoli da per tutti non sono io eh ma vuoi finire per favore luca torna qui luca raga sono troppo fuori eccomi ritornato maggio mi sento proprio un mago hai visto che bello apriamo quello verde e non sento neanche più dai luca nell'orecchio ma aspetta che profumo c'ha fa sentire questa è l'anguria è l'anguria che figo raga bellissimi sono l'anguria sono nuovissimi i colori tra l'altro sono fluo colori fluo e sono strammorbidi strammorbidi voglio vedere questo arancione che quando l'ho comprato quello arancione mi ha colpito mi ha colpito mi ha colpito il faccio fa vedere quello rosa è bellissimo booby aspetta lo sta allargando troppo katia non riesco nemmeno di inquadrarlo sono super fluffy super morbidi e lucidi e cosa ti dice booby questo guarda non ti dico che sapore ha questo devi indovinarlo ok pesca ma che bello che è questo qua giallo booby katia ci sto giocando io non vedi devo fare l'inquadratura io che lo schiaccio io che lo schiaccio fammi fare l'inquadratura allora aspetta che lo allungo di brutto ma katia così non riesco arrivo guarda qua inquadra la mia mano ok ma è ipnotico che bello è dai mettila luca hai fatto un casino basta sparisce di nuovo perchè non può sparire per sempre farmi ancora il coso nell'orecchio che te lo sparo da un'altra parte io provaci ma non è la magia tu tu provaci a spararmi la magia nell'orecchio vai prova di nuovo ti devo tenere mi devo aiutare per caso mi devi lasciare stare semplicemente ciao raga tra l'altro questo è il lenzuolo cioè dopo lo sai che lo devi lavare sto andando in arnia ciao a tutti ciao luca non puoi andar via per sempre veramente guarda mi tappo l'orecchio perchè veramente ho l'ansia farmi lo di nuovo nell'orecchio e chiedo un calcio faccio veramente volare a narnia proprio così che casino raga che ha fatto io sono tornati gli schifidi mi ho preso da sotto perchè ho sbagliato un attimino le dimensioni bidimensionali 0 1 0 0 0 1 questo video sarà imbarazzante basta comunque ragazzi ah no aspetta aspetta ti blocco in questo video noterete che io non sto urlando perchè sono stato sgridato da Katia ok mi ha detto urli sempre quando usciranno i nuovi skifidol super fluffy slime non urlare e così no allora hai pensato bene di spararmi nell'orecchio il coso dei coriandoli non sono io è la magia è la magia che crea la skifidol perchè ogni volta sono fuori di melone questi li fanno soffici scopiettanti profumati fluffy slime super pure super geniali con i nuovi colori fluo bellissimi ti avevo promesso di non urlare infatti comunque ragazzi basta basta ok ora facciamo una cosa Katia salutiamoli nel grande stile della magia vieni qua Katia ciao raga se vi è piaciuto questo video non dovete fare altro che lasciare un bel like ovviamente condividetelo avvisateci la prossima volta che escono i nuovi skifidol super fluffy slime perchè noi li collezioniamo e ciao per aver guardato il video